In questa occasione delle feste di Natale, oggi 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, voglio mandarvi gli auguri più importanti a tutti voi che ascoltate queste parole su Facebook e più particolare a mamma, che sono più di 40 anni, 40 Natale, che non siamo assieme. Se non siamo insieme personalmente, ma la forza del pensiere e l'amore del cuore pensa sempre a te mamma. Ti mando gli auguri più importanti, che questa grande festa di Natale porta a te, nel tuo cuore, nella tua vita, salute, benessere e una vita lunga, che l'energia del bambino Gesù vibra nella tua casa, dando a te tanta e tanta protezione. Poi voglio mandare anche gli auguri ai fratelli che sono in Germania, ai nipoti che non conosco. Me, il mio cuore e i miei pensieri sono sempre tra di voi, pur che la distanza è così lunga. Ma vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo, che il nuovo anno vi porterà fortuna, benessere e salute. Che Dio vi benedice, buone feste a tutti. Alla prossima.